Torniamo con questa nuova serie dedicata alle istantanee di giurisi, cioè video corti dedicati a piccoli argomenti del diritto nella vita quotidiana e senza sigla, senza troppi espedienti grafici, oggi parliamo del semestre bianco. Che cos'è il semestre bianco? Il semestre bianco è l'ultimo periodo, negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica all'interno del quale il Presidente non ha potere di sciogliere le camere come previsto appunto dal suo mandato. Il semestre bianco è istituzionalizzato nella Costituzione dell'articolo 88 e prevede appunto che il Presidente non può esercitare la facoltà di sciogliere le camere o anche una sola di esse negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto e in parte anche con gli ultimi sei mesi della legislatura. È un istituto importante nella gestione e nel bilanciamento dei poteri e noi oggi stiamo vivendo questo periodo perché appunto il Presidente Sergio Mattarella è nel suo semestre bianco, cioè nell'ultimo semestre del suo mandato e quindi non può sciogliere le camere. Ci vediamo alla prossima istantanea. Ciao!